Alla stessa importanza sia dell'educazione familiare che dell'educazione scolastica, perché io dico sempre che una persona, un ragazzo, un giovane, ma anche un adulto, il suo carattere è il suo carattere, non è che uno a calcio si comporta in un modo, a scuola si comporta in un altro modo e magari con la famiglia, in famiglia, nella vita familiare si comporta in un altro modo ancora. Il carattere della persona è quello e quindi in ogni ambiente viene fuori, deve venire fuori. Quindi le tre cose sono sicuramente collegate ed è chiaro, il lavoro parte da lontano, parte dall'educazione familiare, parte dall'ambiente in cui uno cresce, però sicuramente i tecnici come i professori a scuola hanno la responsabilità di cercare di a volte anche sostituire, perché sono dei ragazzi che hanno magari delle esigenze familiari, oggi purtroppo si assiste a tante separazioni tra il babbo e la mamma, tanti problemi familiari o a volte ancora peggio, magari viene a mancare un genitore e quindi noi come professori, chi sta con questi ragazzi deve sicuramente a volte fare qualcosa di più. Io dico sempre che non si può avere con i ragazzi un comportamento per tutti uguale, perché il copy and call a questa età non va bene. Bisogna cercare di entrare in ogni singolo ragazzo e cercare di capire ogni singolo ragazzo che necessità ha, che problematiche ha, che ambiente familiare ha e di conseguenza poi provare a dargli una mano, però per farlo bisogna prima cercare di conoscere l'ambiente che circonda questo ragazzo.